camera seguimi allora campo scuola news è sempre sul pezzo anche sotto l'acqua intervistiamo i nostri ragazzi oggi in uscita a casa di viso prego raccontate come è andato oggi molto freddo ma la finestra riusciti a scendere ok e voi cosa ci raccontate ma ha sempre piovuto quindi anche bella la giornata ok campo scuola news e sembra che stanno continuando a importare materiale tutti fermi il gradino occhio il gradino ferme lì fermo lì l'ho presa dovremmo essere più clementi ci confessate la cosa avrà sicuramente delle conseguenze non sono miei neghi l'evidenza beccati sequestrato campo scuola news l'operazione continua e cronaca a 360 gradi mi dicono che c'è in atto una perquisizione nelle camere per una soffiata legata a e del materiale indecitamente importato in casa ora seguiamo la polizia da campo che sta avviando la perquisizione seguitemi e ora questa parte questa parte l'operazione è molto delicata stiamo salendo e stiamo piano sembra che sia la camera dei ragazzi ancora molta attenzione molto silenzio via via nelle camere via via nelle camere questa parte stiamo arrivando nella camera dei ragazzi risultati è in atto l'acquisizione oltre la grande puzza stanno cercando di acquistare ragazzi e guanti Sì, guardate un po' Pringles Coca Cola carte di caramelle non identificate attenzione altre pringles biscottolini al cioccolato aperti altre pringles bottigliette di me e vabbè abbia sede la notte la cosa sembra più grave di quello che si pensava ho rotto il mio ok Campo Scuola News l'operazione sta avvolgendo molto Campo Scuola News è anche servizio e collaborazione quindi incolliamo l'occasione per intervistare e presentare i nostri cuocchi abbiamo con noi Giussi con Ilario abbiamo poi Toni con Giacomina e partiamo dalla considerazione che visto che i ragazzi apprezzano molto la vostra cucina qual è l'ingrediente segreto che permette loro di essere così contenti di quello che preparate? penso tutto l'affetto che ci mettiamo e l'amore nel cucinare tutte le cose che prepariamo per loro ok ma già che ci siamo allora diteci qual è il menù di questa sera e poi Giacomo ma attenzione ai fornelli siamo molto attenti alla sicurezza allora stasera abbiamo fusilli col sugo di tonno e comodoro e poi abbiamo preparato un arrotolato arrosto ripieno quando è la polenta e abbiamo delle carotte comodine bene grazie mille i nostri cuochi per Campo Scuola di Usa arrivederci